E' stato assegnato alla dottoressa Alessandra Giulia Di Gioia il premio di laurea a Rotary Università di Foggia riservato ai laureati in medicina e chirurgia presso l'Ateneo Foggiano con residenza nella BAT. Ieri sera la cerimonia di consegna a Trani per la seconda edizione di una manifestazione organizzata da tutti i club del territorio e cioè Andrea Barletta Canosa e Valle dell'Ofanto. Io sono onorata, sicuramente è stato un evento inaspettato, è un percorso difficile, complicato, lungo però poi quando si raggiunge la vetta e si cominciano a raccogliere i frutti di questo sforzo, di questi sacrifici è bellissimo. Io ringrazio tutti voi per questa opportunità. Per l'assegnazione del premio è stato fondamentale il lavoro della Commissione Distrettuale Università e Ricerca Scientifica del Rotary di cui è presidente il professor Giuseppe Guglielmi, past president del Rotary Club di Andrea. C'è tanta gioventù motivata e soprattutto c'è continuità perché questa seconda edizione sta a significare che quanto è stato fatto l'anno scorso ha avuto una piena corrispondenza da parte dei presidenti del raggruppamento e questo è di buon auspicio affinché anche l'anno prossimo possiamo continuare come Rotary a essere vicini ai nostri laureati. Fondamentale anche il contributo dell'Università di Foggia da tempo ormai punto di riferimento sempre crescente nelle professioni sanitarie per il territorio del nord barese. La nostra missione è essenzialmente formare i nuovi giovani e una delle missioni del Rotary è anche quella di sostenere i giovani. Io faccio parte del Rotary di Foggia quindi so benissimo come funziona i due meccanismi e le due società o meglio le due istituzioni hanno come obiettivo comune quindi benvengono queste iniziative. Obiettivo dei club del nord barese è quello di premiare le eccellenze del territorio da valorizzare per creare grande attenzione verso la formazione in alcuni contesti così importanti come quello per esempio della medicina. Quando ho saputo che era di Trani sono rimasto orgoglioso di questa scelta. Chiaramente un anno capita a Barletto, un anno capita a Trani, un anno a Margherita e speriamo anche Canosa. Quindi è un'alternanza della provincia della Batte, è un bel premio che abbiamo creato e spero che durerà nel tempo. Speriamo sempre che i ragazzi possano avere la possibilità di avere un attimo di serenità economica, poter fare quello che loro desiderano all'inizio della loro esperienza.